Nei loro programmi non c'era nessuna settimana bianca a Livigno, ma sicuramente una sfrenata giornata di shopping un po' particolare. A finire nel merino dei finanzieri del Passo del Foscagno, è stato un gruppo di cinganesi, che non è di certo passato inosservato quando ha superato il valico intorno alle 11.30 di domenica, sprovvisto di qualsiasi tipo di attrezzatura che facesse pensare ad una normale vacanza. Dubbi che si sono rivelati fondati quando alcune ore più tardi alle 17.30, il pulmone era appalso al valico, con gli stessi passeggeri a bordo. A fare insospettire gli agenti delle fiamme gialle, l'evidente stato di agitazione dei viaggiatori, una volta fermati era a Dogana per il consueto controllo. Verificata la totale assenza di bagagli e perplessi per le loro risposte evasive, i finanzieri hanno deciso di setacciare il mezzo, che si era trasformato in un magazzino di alcolici all'insaputa del lignare autista. I finti vacanzieri avevano infatti fatto scorta di bevande alcoliche in vista delle imminenti festività, ben 120 litri con gradazione superiore ai 22 gradi, occultati all'interno dei diversi vani portaoggetti dell'autobus convinti di farla franca, un bottino che invece si è rivelato più caro del previsto. I turisti, 11 cittadini dello Sri Lanka ed un uomo originario delle Mauritius, oltre a restituire le bottiglie che sono state sequestrate, sono stati sanzionati con un'ammenda di 312 euro.